Ormai i tempi sembrano maturi e la TP da consorzio tra enti territoriali potrebbe a breve diventare una SRL, ma la scadenza che pone i maggiori interrogativi è quella del 3 dicembre 2019, entro cui dovrà essere fatta la gara per le aziende di trasporto di Baccino. Come sarà suddiviso il territorio sardo? Si prenderà in considerazione l'area metropolitana del nord-ovest? L'ideale è infatti avere un'azienda di distretto, ha spiegato il presidente della TP sassarese Roberto Mura ai consiglieri comunali della Commissione Urbanistica. Controllo dei biglietti, paline intelligenti e revisione delle linee ai temi affrontati nel corso dell'audizione. Le panine elettroniche sono adesso a regime, 70 già installate. A breve sarà indetta la gara per altre 30. Sono invece 110 le pensiline, di cui 3 allestite con distributori automatici di bevande e snack e l'acquisto di biglietti. E infine atteso per la conclusione dell'anno un progetto di revisione di tutte le linee, grazie allo studio ingegneristico che sarà fatto sull'intera rete messa a confronto e analizzata. Alcuni collegamenti sono rimasti a 1980. L'obiettivo è rivederne alcuni, per meglio rispondere ai cambiamenti delle abitudini degli utenti.